Torneranno a riunirsi tra 15 giorni circa l'amministrazione comunale e i rappresentanti sindacali dei panificatori giarresi. È stato deciso questa mattina in municipio nel corso di una seconda riunione tra le parti. Il sindaco Angelo Danna intanto oggi stesso invierà alla regione un documento in cui critica il decreto assessoriale regionale che vieta la panificazione domenicale e nei giorni festivi, invitando ad una revisione dello stesso. Nei prossimi giorni il primo cittadino e le organizzazioni sindacali cercheranno sulla materia di raccordarsi anche con i sindaci di riposto e maschili affinché nel territorio si adotti lo stesso provvedimento al fine di evitare concorrenza tra i panificatori. A proporre questo incontro tra i sindaci è stato il presidente dell'Unione Liberi Artigiani Diego Bonaccorso che ha fatto presente come la turnazione di fatto scatenerebbe la rivalità tra i panificatori. Salvo Camarda della CAI ha sottolineato l'importanza di tutelare la produzione di pane locale che è una produzione di eccellenza.